Il Potenza fa tre passi nella corsa a salvezza, la Turris non inverte il trend di un 2021 che l'ha vista vincere una sola volta in dieci partite. Nel 2-1 del Viviani, nella ventottesima giornata di campionato, c'è un primo tempo dominato dai Lucani, con due legni oltre al rigore di Baclet che ha sbloccato il risultato, unito al raddoppio di Sandri a metà ripresa, tardivo il risveglio dei corallini a segno con il colpo di testa di Romano nel finale. Avvio a rilento con il Potenza che produce tanto gioco ma poche occasioni, dopo una fase di studio è invece la Turris a sfiorare il vantaggio, serpentina di Boziuk che va via a sinistra, salta di somma e calce in diagonale, senza inquadrare però la porta. Da quel momento è monologo Potenza, al ventunesimo chance colossale per Mazzeo che raccoglie tutto solo sul secondo palo l'invito di Sepe ma centra alla traversa da tre metri. Tre giri di lancette e ancora il legno salva la Turris, Mazzeo aziona Zampa, invito al centro per Di Livio che si coordina e calcia, a Bagnale battuto, palo pieno. L'episodio che spezza l'equilibrio arriva al ventottesimo, Coccia controlla ed entra in aria, D'Ignazio cerca il pallone ma trova il ginocchio dell'avversario. Calcio di rigore, dal dischetto si presenta Baclet che calcia dritto per dritto, a Bagnale spiazzato e Potenza in vantaggio. Chance enorme per il raddoppio rosso-blu, quattro minuti dopo, Di Livio dal fondo, Bruzzo stacca nell'area piccola, palla alta, portiere battuto. Nel secondo tempo il film della partita non cambia, dopo un paio di zuccate tentate da Baclet e Salvemini e Sandri a cercare il blitz dalla distanza, a Bagnale risponde presente, il numero quattro si rifà due minuti dopo, manovra che coinvolge l'asse sinistro da Salvemini a Di Livio che serve Sandri all'ingresso in area, sinistro chirurgico che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. E partite in ghiaccio, la squadra di Caneo si ridesta nel finale, Alma spreca così su invito da sinistra, poi all'ottantacinquesimo Romano firma il 2-1, stacco vincente su corner battuto da sinistra, Marcone non può nulla e la palla si insacca. Il Potenza amministra però il vantaggio e nel recupero sfiora anche il Tris con Volpe che approfitta di una palla in uscita persa dalla Turris, destro sul secondo palo, muro di Abagnale. Il 2-1 finale permette al Potenza di salire a quota 24 punti, mentre la Turris resta a 31 e adesso deve seriamente iniziare a guardarsi le spalle.